Nuovo e pratico da consultare, un aiuto per superare l'esame di guida della patente B. Un videocorso suddiviso in varie lezioni di pochi minuti ciascuna per ripassare e ricordare le corrette tecniche di guida imparate durante le ore di lezione effettuate con l'istruttore dell'autoscuola. La maggior parte dei comportamenti e delle operazioni da eseguire nella guida sono atti abitudinari che si devono acquisire come riflessi condizionati in seguito a una rigorosa educazione iniziale. Il videocorso nasce dalla personale lunga esperienza di un insegnante d'autoscuola con l'intento di suggerire trucchi e accorgimenti per superare le difficoltà iniziali e per l'apprendimento di una guida corretta. Uno strumento indispensabile per rivedere comodamente a video tutte le manovre richieste per superare l'esame pratico della patente B. Strumentazione di bordo, luci, acceleratore, freno, frizione, manovra del volante e del cambio. Tutte le operazioni e le situazioni fondamentali per la guida filmate e commentate. Uno strumento che vi seguirà nella vostra preparazione pratica fino all'esame finale. Lo trovi sul sito www.lapatenteonline.com